Radio Radicale, siamo con Alessandro Di Battista dopo l'audizione di Alfano in Commissione Esteri sulla vicenda di Giulio Reggiani. Innanzitutto come ha trovato le parole di Alfano dopo l'atteso ritorno dell'ambasciatore italiano a Cairo? Alfano praticamente non ha detto niente, non ha avuto il coraggio di dire niente. Chi ha parlato, poi non so se quel che ha detto sia vero o meno, è stato il Presidente Scicchitto che è Presidente della Commissione Esteri, della Camera dei Deputati, tra l'altro stesso partito di Alfano, area governativa. E Scicchitto ha detto che probabilmente delle lobby petrolifere straniere sono corresponsabili della deviazione di parte dei servizi segreti egiziani che hanno ammazzato e torturato Reggiani, il cui ritrovamento del cadavere anche è un ritrovamento ad orologeria. Per cui se è, questa è una mia considerazione, se è ad orologeria il ritrovamento del cadavere, evidentemente è anche ad orologeria l'omicidio stesso. E Scicchitto ha anche risposto perché io ho accusato Alfano di aver detto una parola appunto sulle accuse provenienti dal New York Times. Ricordo che qualche giorno fa New York Times ha denunciato il fatto che l'amministrazione Obama avesse fornito delle prove esplosive sul coinvolgimento dei servizi segreti egiziani sulla morte e la tortura di Reggiani. Alfano non ha detto una parola. Scicchitto invece ha detto che ritiene che probabilmente quell'articolo, ripreso poi dall'Espresso, sia stato commissionato da pezzi di servizi segreti nordamericani. Cioè ci sta dicendo che il nostro Paese è sotto attacco da parte di potenze straniere o comunque di lobby petrolifere legate a nazioni straniere per quel che concerne gli interessi economici dell'Italia con l'Egitto e di fatto Reggiani si è trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Questo ci hanno detto. Ora, io non so se questo sia vero, io non ho nessuna riscontra, ma dato che l'ha dichiarato il Presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, il Presidente Gentiloni ha il dovere di venire in Parlamento e riferire sul caso Reggiani e sui rapporti tra Italia e Egitto, ma in questo caso anche sui rapporti tra Italia, Francia, Italia, Stati Uniti e in virtù di questi nuovi elementi che sono usciti fuori da questa Commissione. Mi permetta di dire anche grazie all'irruenza e delle domande importanti provenienti dall'opposizione, non solo da parte del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda la ripresa delle relazioni diplomatiche, sono avvenuti in un momento molto particolare nella crisi del Mediterraneo. Lei vede un nesso anche tra l'inizio dell'attività della Marina Militaria Italiana nel Mediterraneo con anche le minacce di Haftar? Io questo non lo so. Posso avere delle opinioni, però non ho veramente prove o non ho un'opinione certa. Posso promettere che qualora, ma è il suo dovere, dovesse venire Gentiloni in aura, io personalmente chiederò al Presidente del Consiglio anche lui a riguardo. Ecco, sulle difficoltà che hanno incontrato gli inquirenti ad Oxford, che riflessioni si sente di fare rispetto alla collaborazione, all'apertura che hanno dimostrato le autorità egiziane? Mi domando se coloro che hanno accusato Cambridge, mi pare, più che Oxford, Cambridge, sì, scusate, Cambridge non l'ha fatto il Movimento 5 Stelle. Ripeto, non abbiamo elementi, non lo stiamo al governo, quindi non è che abbiamo degli elementi. Noi facciamo l'opposizione e pungoliamo il governo affinché ci dia spiegazione. Penso che alcune accuse siano state fatte a Cambridge, da parte di qualche esponente politico dei partiti, non dal Movimento 5 Stelle, vogliono lasciare presagire che Reggeni non era in Egitto soltanto come, diciamo, studente che stava compiendo un dottorato. Questo non lo dice il Movimento 5 Stelle, attenzione, l'hanno fatto intendere alcuni partiti politici. L'ultima considerazione, ha l'impressione che il governo italiano voglia chiudere questa vicenda per normalizzare i rapporti con l'Egitto? Sì, ma quel che è uscito fuori oggi, ripeto dalle parole del presidente Cicchitto, è che evidentemente la questione non riguarda più soltanto i rapporti tra Italia e Egitto, ma anche tra, diciamo, gruppi petroliferi italiani e gruppi petroliferi stranieri. Per quel che ho capito, anche voi dovete fare questa analisi appunto dagli interventi, in commissione, gruppi petroliferi francesi e nordamericani. Bene, la ringrazio molto, la ringrazio Alessandro Di Battista e il Movimento 5 Stelle. Grazie a tutti.